Era dall'ottobre del 2008, dopo la caduta di Lehman Brothers, che la borsa di Tokyo non vedeva un'impennata del genere. Mercoledì mattina il Nikkei ha chiuso con uno spettacolare più 7,7%, un rimbalzo in piena regola il giorno dopo che l'ennesimo tonfo, trainato dalle vendite allo scoperto, aveva cancellato i guadagni del 2015. Il motivo? Secondo gli analisti, la caduta, vista dopo l'esplosione delle preoccupazioni per un rallentamento economico della Cina, è stata eccessiva. Tutti gli occhi rimangono comunque puntati sulla borsa di Shanghai, positiva per il secondo giorno di fila.